Il commissario alla Spending Review, Carlo Cottarelli, lancia un nuovo allarme. Se si utilizzano risorse provenienti da risparmi sulla spesa per aumentare la spesa stessa, il risparmio non potrà essere utilizzato per ridurre la tassazione sul lavoro. Per fare un esempio più pratico, Cottarelli avverte anche che già adesso sono previste nel 2015 spese per 1 miliardo e 600 milioni impegnate prima che vengano individuati i risparmi che le possono consentire. La situazione economica insomma è ben lontana da un punto di svolta e a preoccupare ci sono anche le divisioni, le spaccature all'interno del paese. Nel mezzogiorno la situazione non è mai stata così drammatica, lo confermano le cifre fornite dallo Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno. Un paese spaccato, diviso, diseguale, dove il sud scivola sempre più nell'arretramento. Questa impietosa fotografia di una più che mai viva questione meridionale la scatta lo Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, nel suo rapporto. Emblematici in proposito ai dati sul PIL, che lo sappiamo bene, nel periodo 2008-2013 ha subito una picchiata continua, ma se il centro-nord ha perso per strada il 7%, già di per sé un dato orribile. La quota di ricchezza nazionale prodotta dal Mezzogiorno è crollata, addirittura del 13,3%, mentre il divario di PIL pro capite è tornato ai livelli di dieci anni fa. Cadute diseguali che rendono ovviamente diseguali anche eventuali risalite, con la conseguenza che l'Italia fa sempre più fatica ad agganciare la ripresa. Secondo le previsioni dello Svimez, infatti, nel 2014 il nostro prodotto interno lordo crescerà solo dello 0,6%, molti anche nel governo ci metterebbero la firma, frutto del combinato disposto del 1,1% del centro-nord e del meno 0,8% del sud, e le stesse tendenze inevitabilmente si notano su consumi delle famiglie e investimenti. Insomma, un'Italia a due velocità, peraltro bassissime. Il Mezzogiorno viene definito dallo Svimez una terra sempre più a rischio desertificazione, industriale e umana, dove si continua ad emigrare, a non far figli e ad impoverirsi. I nuclei familiari in condizione di povertà assoluta, infatti, al sud nel 2013 risultano più che raddoppiati rispetto al 2007. Del resto, per quelli, sempre meno, che al sud decidono di restare. La prospettiva di rimanere disoccupati è tra quelle più concrete, tanto che nel 2013 il numero di coloro che avevano un lavoro è sceso sotto la soglia psicologica dei 6 milioni e il livello più basso dal 1977.